Mascherini, igienizzanti, prima di entrare al seggio, distanziamento sociale tra scrutatori. La macchina elettorale in tempo di Covid ha fatto il suo dovere. I due giorni dedicati al voto, domenica e lunedì fino alle 15, sono trascorsi abbastanza agevolmente, sebbene non siano mancate in qualche seggio le code. C'è stato qualche seggio dove hanno dovuto attendere anche 30 minuti, mi hanno detto, al massimo, in quelli dove c'era maggiore affluenza di persone in quel momento. Invece c'è stata molta coda agli uffici comunali dove molti sono andati per rinnovare le tessere elettorali. Non è mancato nemmeno un brivido Covid, ma subito fugato. Una scrutatrice domenica mattina al seggio si è sentita male, ma nel giro di pochissimo si è appurato che più che di Covid si trattava di indigestione. Possibilità di votare anche per chi era in isolamento fiduciario, sempre che se ne fosse fatta domanda via mail all'ufficio elettorale. A Vicenza a chiedere di poter votare, sebbene in quarantena, sono stati in tre su quasi mille in isolamento. Un dato che potrebbe in qualche modo aver inciso anche sull'affluenza. Tre le domande sono un numero infinitamente piccolo rispetto a tutti coloro che si trovano in isolamento domiciliare o in quarantena e che avrebbero il diritto di voto. Credo che abbia giocato molto.